Aggravamento della misura cautelare per un uomo di Serra di Falco di 66 anni, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Caltanissetta Santi Bologna ha disposto la custodia cautelare in carcere. Maltrattamenti in famiglia l'accusa che gli viene attualmente contestata e che nel recente periodo gli era costata l'applicazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, la quale aveva presentato una querela. Ma dall'inizio di ottobre ad oggi, secondo quanto emerso dalle carte dell'inchiesta, l'indagato non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dal giudice, tanto da contattare ripetutamente la persona offesa via telefono, la quale è stata anche costretta a bloccare il numero dell'ex marito. Nonostante ciò, l'uomo ha provato a contattare la figlia in maniera insistente, tanto che anche quest'ultima è stata costretta a bloccarlo. E non contento, l'indagato si è rivolto pure alla nuora per cercare di contattare la ex moglie. Per il GIP Bologna c'è anche il rischio di inquinamento delle prove. L'indagine per maltrattamenti infatti non è ancora chiusa e il Serra di Falchese ha anche cercato più volte di convincere la ex moglie a ritirare la querela, minacciando pure di suicidarsi in caso di rifiuto della propria richiesta.